Allora, il PD sconfessa la linea del capogruppo del PD, tu con Melucci e il PD regionale contro? Nessuna domanda. Nessuno è contro nessuno. La linea regionale è diversa. Si lavora per fare avanti questa amministrazione per il bene di questa città. Questo è un ritornello. No, non è un ritornello, per te è un ritornello. Voglio capire, c'è una discrasia tra la linea regionale e quella tua di capogruppo? Si lavora tutti insieme. Però siete molto frastagliati. Non siamo frastagliati, è un partito, il confronto è anche giusto tra noi. Lo scontro, non il confronto. Ma lei lo può chiamare come vuole, io lo chiamo confronto. Se il PD ordina l'uscita dalla maggioranza, tu che fai? Si, non ordina, il PD è un partito. Allora, se il PD decide, bene, se il PD decide, esci dalla maggioranza? In questo momento il PD non ha deciso ancora niente, per cui io non ho deciso se. Allora, a me ne ha insegnate da piccola che il morto lo piango quando è morto. Per prendere tempo. Io vivo. Anche io vivo. E viva la vita. E le auguro anche buon Natale. Proprio con Italia, ricambio, proprio vivete con Italia Viva. Colga il mio augurio. E lo ricambio di cuore. Lo ricambio di cuore. Colga il mio augurio. Lo ricambio di cuore. Colga il mio augurio. Lo ricambio di cuore. Lo ricambio di cuore. Verso una pace ovunque, anche qui. E la pace sia con te e con il tuo spirito. Amen. Grazie a tutti.